Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi come vedete me, qui davanti a me c'è il mio iPhone Perché infatti oggi ci troveremo in un nuovo tutorial Ma prima, sigla Bene ragazzi, oggi vi mostrerò come utilizzare i video di picture in picture Su iOS 14 Ma non la funzione implementata da Apple Un'altra funzione Utilizzando l'applicazione stessa di YouTube Vi voglio dire una cosa Da ora in poi il piano dei video sarà così Mercoledì tutorial Mentre sabato Un video più normale diciamo Allora, prima cosa andiamo a sbloccare il nostro iPhone Andiamo a cercare App Store E scarichiamo Scriptable Che è una delle due app che ci serve Questa qui Comunque vi lascio qui sotto il link in descrizione Scarichiamo La seconda app che ci serve è Comandi Dovrebbe essere già scaricata sul vostro iPhone Se non è ancora scaricata Andiamo a scaricarla Comandi Basta Apri A questo punto Andate sul link che vi lascio qui sotto in descrizione Che vi porterà una pagina di Safari E qui dovete fare E qui dovete fare Get shortcut Si aprirà direttamente l'app Comandi E dice Non è possibile aprire YouTube Perché? Potrebbe essere che non abbiamo attivato i comandi rapidi non attendibili Quindi andiamo su Impostazioni Scorriamo Scorriamo Fino ad arrivare a Comandi rapidi E attiviamo Comandi non attendibili Consenti Mettiamo il PIN Ok, fatto Se vi comparirà una di queste schermate Che vi sto mostrando ora Perché non avete mai utilizzato un comando rapido E basterà eseguirne uno E poi sederete a posto Quindi riproviamo Get shortcut Voilà Aggiungi comando rapido A questo punto Scorriamo in fondo Aggiungi comando rapido Non attendibile In questo caso Siccome io ho due comandi rapidi Devo sostituire Aggiunto i miei comandi rapidi Come vedete qui Abbiamo YouTube VIP Bene A questo punto Vi mostro il funzionamento Andiamo su YouTube Apriamo un video a caso E per attivarlo facciamo così Condividi Altro E scorriamo in giù Fino a YouTube VIP Se volete fare una cosa Per portarlo qui in altro Facciamo modificazioni E aggiungiamo YouTube VIP Ai preferiti E ora come vedete È qui in alto Facciamo YouTube VIP Desidero accedere all'app Scriptable Ok Ecco qui che il nostro video è partito Possiamo scegliere la velocità Possiamo scegliere la qualità Poi possiamo ingrandirlo Impicciolirlo E guardate qui posso navigare senza problemi Nel mio sistema Guardate tipo lo metto qui Vado su Qualsiasi altra applicazione E continua ad andare Come vedete Quindi Applicazione da YouTube Funzionante Ora vi mostro un metodo Per utilizzarlo da Safari Andiamo su YouTube da Safari Cerchiamo un video Una YouTuber Completamente a caso Schiacciamo Un video Abbastanza vecchiotto Diciamo A questo punto Facciamo condividi Ma non con questo tasto qui Ma con il tasto Quello Diciamo Dell'iPhone Andiamo Facciamo YouTube VIP E come vedete Funziona Ugualmente Alla stessa maniera Funziona Possiamo fare le stesse cose Renderlo più veloce Come vedete Ecco Quindi Direi Che questo metodo Funziona Bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto E niente Ciao Ciao